In libreria con Giulia La tua sezione preferita? Decisamente saggistica Il tuo libro preferito? Il fiume della coscienza di Oliver Saksen Un libro che vorresti leggere? Dei libri che vorrei leggere, ossia tutti questi di Anne Arnault dopo aver letto l'evento Bellissimo Che mi è piaciuto moltissimo Molto molto bene Un saluto dalla Feltrinelli in stazione a Firenze